Notizie buone, notizie cattive escono fuori dal report della Consob molto molto interessante in merito alla gestione delle finanze personali da parte degli italiani. Andiamo a fare un piccolo riassunto per capire che cosa sta succedendo ai soldi degli italiani. Risparmiano? Investono? Hanno paura? Che cosa pensano delle criptoalute, del trading? Se investono come lo fanno? Nella gestione delle finanze personali la maggior parte degli intervistati, dice il report della Consob pubblicato ieri, vi lascio qui il link in basso per chi volesse insomma leggerselo tutto, la maggior parte degli intervistati non ha né un piano finanziario né la consuetudine di rispettare puntualmente il proprio budget finanziario. Mentre solo il 10% degli intervistati dichiara di avere entrambe le abitudini. avere un piano finanziario, un piano strategico da realizzare con i propri soldi e un budget da destinare per determinati tipi di operazioni. Più del 70% degli individui dichiara di risparmiare. Ovviamente gli italiani grandi risparmiatori e attenzione una quota significativa di questo 70% degli italiani che continua a risparmiare dichiara di aver raccantonato soldi senza alcuna particolare ragione. Il report ci continua a dire che la crisi sanitaria si è riflessa sull'ammontare dei risparmi degli italiani che sono diminuiti nel 32% dei casi. Quindi nel 32% dei casi i risparmi degli italiani sono diminuiti e si sono persino esauriti nel 5% dei casi. Cioè questa crisi sanitaria ad alcuni italiani su 5 italiani su 100 non ha più una lira in tasca, un euro. Oltre il 36% degli intervistati non sa come impiegare le proprie disponibilità alla luce dell'attuale contesto economico. Cioè non sa che cazzo fare. Non sa come affrontare per esempio questo periodo di inflazione, questo periodo di incertezza, questo periodo di bolla dei mercati finanziari. E quindi cosa fanno? Il 19% dice cash, gli schei, voglio gli schei, i piccioli. Il 19% dice mi tengo in liquidità. Il 17% va verso il famoso e più grande mattone investimento immobiliare. L'11% verso l'investimento finanziario e attenzione arriva l'alternativa bitcoin per il 3% dei casi. 3 italiani su 100 decide di creare un piccolo investimento. In bitcoin rispetto alla conoscenza delle criptovalute e di alcuni servizi digitali ci dice il report che è ancora poco diffusa però è in crescita. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che il 19% degli investitori inizia a sentir parlare e anche ad utilizzare la consulenza automatizzata. E di questo andremo anche a parlare all'interno della giornata del 29 gennaio 2022 che puoi approfondire su strategie di protezione. Ovviamente i temi che andiamo a trattare sono quei tre che puoi andare a vedere direttamente nel sito, nella pagina dedicata. Banche sicure, nomi e cognomi in Italia e all'estero, piattaforme, piattaforme non investimento o consiglio di investimento, noi non diamo consigli di investimento, piattaforme che ti danno delle rendite passive. Queste prime due soluzioni sono subito operative, cioè tu apri l'account e via operi. Ovviamente dopo aver fatto un quadro della situazione a livello economico, mondiale, di che cosa sta succedendo, verso dove stiamo andando e la parte dal mio punto di vista è più interessante all'interno della giornata. Però poi passiamo sull'operatività. Terzo, come rendere intoccabili, invisibili i tuoi soldi in maniera legale e legittima dagli occhi indiscreti del controllo totale del sistema italo-cinese. E ora perlomeno di iniziare a parlarne oltre che magari ad operare. Ed è questo che faremo all'interno di questa giornata, ma andremo grazie a uno dei miei esperti ad analizzare alcune piattaforme. Quindi è una giornata educativa, ma allo stesso tempo formativa, quindi che con approcci concreti, andremo ad analizzare alcune piattaforme che offrono appunto una consulenza automatizzata. Se volete anche algoritmizzata, ci siamo? Che può offrirvi un'alternativa nella gestione dei vostri investimenti. Ripeto, noi non parliamo e non vi consigliamo su dove investire all'interno di questa giornata. Perché parliamo di quelle che sono le banche sicure o non sicure, le piattaforme, quello che ti ho detto prima. Ma all'interno di questa giornata dedicheremo una piccola parte ad analizzare delle piattaforme che per molti di voi potrebbero essere molto molto importanti. Per capire anche avere un quadro più ampio nella gestione dei vostri investimenti. E in questo caso il report ci dice che c'è un aumento nella consulenza automatizzata, sfruttando ovviamente servizi digitali. Il 30% lavora sul crowdfunding. Faremo degli accendi anche sul crowdfunding nella giornata del 22 gennaio. 29 scusate. Il 31% inizia ad avere un approccio, ci dice il report della Consob, sul trading online. E il 39% sulle criptovalute. Quindi c'è un aumento della consulenza automatizzata, un aumento degli investimenti in trading online, un aumento importante per quanto riguarda il settore criptovalute. E poi ci sono le notizie più negative. Il 27% delle famiglie riferisce un calo temporaneo o permanente del proprio reddito. Mentre la metà degli italiani non ha subito alcun cambiamento. La metà degli italiani non li è cambiato assolutamente nulla. Il 27% delle famiglie invece hanno registrato, a causa della crisi sanitaria, crisi economica che c'è stata in questi ultimi due anni, una flessione del proprio reddito abbastanza importante, temporaneo o permanente. Considerate che il 39% degli intervistati si dice in difficoltà a far fronte alle spese fisse e ricorrenti. Mentre il 28% degli individui che sono stati intervistati dice di non essere in grado di gestire una spesa imprevista di 1000 euro. Il 46% degli italiani è indebitato. Secondo questa indagine quasi il 50% degli italiani ha debiti per finanziare l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione o per affrontare spese correnti, purtroppo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS